ciao sono pietro foresti e sono un produttore musicale siamo su rocker tv a lezione con io vorrei sfatare un altro mito il mito del se non sei raccomandato non vai da nessuna parte tanti artisti molto giovani ma anche non così giovani mi dicono ma tanto servono le raccomandazioni è l'unico modo per fare successo in questo mondo ecco questa per me è una cosa estremamente falsa ma c'è anche una falsità ideologica è come dire che se non dipende esclusivamente da te non sei in grado quindi secondo me è un aspetto di fiducia fiducia in se stessi e fiducia nel mondo è la tua qualità che ti può far andare avanti non è qualcun altro con la raccomandazione che può farti diventare quello che non sei nella mia esperienza io ho conosciuto tanti artisti che sono diventati famosi e vi assicuro che una delle caratteristiche che hanno in comune è che vengono tutti da un passato estremamente complesso hanno dovuto superare questo complesso evolversi sia umanamente che artisticamente per diventare quello che sono diventati quindi dire sei lì perché sei raccomandato non solo una bugia ma è una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha fatto le cose meglio di voi quindi poche scuse fatevi il culo e arrivate agli stessi risultati sono pietro rocker tv a lezione con grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti